Sergei Milinkovic, Savic e Darko Lazovic sarebbero risultati positivi al Covid, al famigerato coronavirus. Triste notizie, quelle che vi racconto oggi in questo video angeliteato, in arrivo per quanto riguarda la Lazio e il Verona. I centrocampisti di Lazio e di Verona infatti sarebbero risultati positivi, ripeto di nuovo al Covid-19, insieme al compagno nazionale Diorge Nikolic e ad un fisioterapista, di cui però non è ancora stato divulgato il nome né il cognome. Tutti quanti resteranno in isolamento da come si legge sul web e andranno a lasciare il relativo ritiro. Dunque una tegola importante, imbarazzante per quanto riguarda il personaggio di Simone Inzaghi, che va a perdere una, chiamiamola, pedina importante per quanto riguarda la sua squadra calcistica. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non vuole leggere la privacy di Milinkovic, Savic e Nd, Lazovic, ma solo informare eventuali persone. Grazie a tutti e al prossimo video dal vostro narratore italiano di Youtube Italia.